però lasciatemi perchè sono qui, lasciatemi, 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 ma da lasciatemi mamma mia, che male capo che tengo, già stamattina che stiamo facendo i controlli mi fa male la capo ah non ce la faccio più, vorremmo chi è che ha combinato, appunto, che ha combinato chi è? maresciallo l'hai trovato senza due certificazioni come senza due certificazioni? ramano con il telefono, faccio subito una chiamata, ma che adesso cosa l'iphone è l'ultimo modello? mamma mia, chi sono questi che stanno arrivando? cari colleghi, benvenuti oggi mi ha chiamato questo guadagnolo senza due certificazioni, ora mi fa capire cosa c'è ma io ci porto a fare il cane ma una cosa guadagnolo, ora mi devi capire una cosa magari è il carnevale che è venuto questo maschio fai vedere un po' tu chi sei? e tu invece? allora tu sei Fabio stai giacchiappato eheh, e allora per forza cosa sei rimasto tu? tu si? Michele Sgamato maresciò che sei la mascherina? ce l'avevi detto voi che non c'erano per mettere la mascherina io ho girato la mascherina dopo i virus, non la mascheri del carnevale ma ho visto che sono scordati me eheh eheh che ti sbaglio, non mi ha già scordati te mi asciò a fare l'autocertificazione, capito o no? ma il cane è rapiccià il cane è rapiccià il cane è rapiccià il cane è rapiccià io non ti ho giusto che il cane non è da pescià ti ho giusto che hai fatto l'autocertificazione, puoi fare pescià ma puoi capire che rimane la faccia ma ora lo sapete ora lo sapete, ora lo sapete, non ti preoccupare allora prendi la carta e puoi fare la multa ma non è pure la multa, ma chi ci dice a mamma? brigadiere prendi nota oggi, 3 aprile 2020 il signore qui, Harry Potter circolava senza autocertificazione adesso dammi la carta d'identità la tag l'autocertificazione non la tiene e manca la carta d'identità tirerla con un colpo, io dispasteriata prendi la roba che ti ho fatto in casa, io e manca i cani da chiappone senza autocertificazione non te la pazza passa liscia